Molto gradito perché era da tempo che non ci sentivamo e c'è anche un motivo politico, diciamo così, amministrativo. Abbiamo Susanna Ortolani, ex consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle, che intanto saluto con molto piacere. Buonasera a te. Allora, facciamo una breve chiacchierata, purtroppo il Movimento 5 Stelle non è rappresentato in consiglio comunale, per una questione di numeri non è rappresentato neanche l'ex presidente del consiglio a questo punto, Massimiliano Gruffi, quindi c'è stata un po' una falcidia di rappresentanti delle vecchie forze politiche e questo è dovuto anche al fatto che alle ultime elezioni i cinque sindaci che si sono presentati hanno ottenuto con le loro rispettive coalizioni, hanno fatto, diciamo così, il pieno con le loro coalizioni, per cui hanno potuto essere sia votati in consiglio comunale insieme anche ad altri loro, diciamo, alleati. Questo in modo particolare per la Lega, e per la Lega, ma perché per il resto è per il PD. Allora, Susanna, vediamo un po', proprio partendo dal Movimento 5 Stelle e dalle elezioni, adesso si prospetta queste regionali, abbiamo seguito un pochettino perché naturalmente questo è anche il nostro compito, ma anche il nostro piacere perché ci fa piacere seguire un po' il dibattito cittadino che avviene anche attraverso i social e tu lo utilizzi frequentemente, ti piace giustamente. E ho visto che hai commentato anche questa fase della ricerca del candidato Movimento 5 Stelle per la regione Marche. Io ancora non ho capito se voi vi presentate, voi fai sempre parte del Movimento 5 Stelle. Io mi sento ancora grillina, come si dice, sì, assolutamente. Ecco, quindi in definitiva vi presentate con il PD o da soli, ma mi sembra da soli? Da soli perché ci sono state diverse riunioni anche a livello regionale e la base, chiamiamola così, assolutamente ha votato per il no all'alleanza con il PD, anche se il nostro attuale consigliere in regione invece auspicava questa alleanza. Maggi? Maggi, esatto. Però si è preso una valanga di insulti e ancora non è convinto. Ogni tanto ci provano ancora a proporre questa nefandezza, però la maggior parte... Cioè quella di presentarvi da soli? Sì, no, lui vorrebbe fare questa alleanza perché è convinto che era... Ah sì, invece tu sei convinto è il contrario. Io sono convinto è il contrario assolutamente. Di lasciare quello che era lo spirito iniziale del Movimento 5 Stelle. Esatto, gli sarebbe proprio un abbandono del famoso motto, no? Non ci alleiamo con nessuno, poi i risultati per carità sono a volte anche miseri. Però rimaniamo fedeli a questa idea, anche perché se per anni abbiamo attaccato il PD, poi andarci a braccetto, logico che la legge nazionale è diversa da quella regionale, quindi... Poi te con il PD, il Consiglio Comunale, ci avete avuto degli scontri abbastanza duri. Non ci siamo... Non ci siamo... Non ci siamo... Siamo così... No, non ci siamo... E tu lo stesso, non è che hai lasciato nulla di intentato, sei riuscito a talonarli in alcune circostanze che poi magari vedremo, perché ritorna il problema della sicurezza delle scuole e ritornano altri problemi che sono stati un po' anche i tuoi cavalli di battaglia. Fra cui anche quella dell'intitolazione delle vie o piazze di Recanati, che tu avevi proposto che si facesse al magistrato di Matteo. Beh, io la cittadinanza onoraria avevo chiesto. Cittadinanza onoraria. Come avevano fatto diverse cittadine. Ah, è vero, la cittadinanza onoraria. Sì, sì, sì. Comunque... Regognosamente respinta. Possiamo toccarla brevemente questa questione. Sì, certo. Perché poi invece ti era stata respinta perché diceva c'è un percorso da fare, rispettare un regolamento che ci dotiamo perché almeno siano coinvolti anche i cittadini nelle proposte di chi potrebbe essere cittadini onorari. Tutte queste cose in realtà per bucciare la tua mozione. Sì, la mozione che ho presentato e ho ripresentato. Che hai ripresentato. Visto che state fermi ve la ripresento. E poi apprendiamo un altro giorno, in una delle ultime sedute, se non l'ultima seduta del Consiglio Comunale, che la cittadinanza onoraria le hanno conferite a tutti i bambini nati nel territorio dei ricanati. Esatto. Senza nessun rispetto di quel percorso che dovevano adottare. Sì, è l'ennesima dimostrazione che alla fine sono tutte scuse che inventano, poi fanno sempre come gli pare e i consiglieri sono pressoché inutili. Oltretutto c'è stata la vergognosa, quella volta presa in posizione Massimiliano Rufi che da Presidente del Consiglio ha detto io abbandono l'Aula, invito tutti a farlo insieme a me, per cui neanche l'hanno discusso. Sì, non me lo ricordo su passaggio. Non hanno discusso la mia mozione, lui ha detto che proprio perché l'avevo ripresentata allora sei del coccio, no? E io non te la voto, anzi esco dall'Aula e invito tutti a farlo, da Presidente del Consiglio. Un dispettito diciamo di questa tua insistenza. Sì, sì, esattamente, ha fatto una cosa che secondo me un Presidente del Consiglio non può proprio fare e quindi ha preso questa posizione che mi è rimasta un po' qui. Ma sai che adesso se le dicono anche per altre risoluzioni che sono state approvate in Consiglio Comunale che non sono state rispettate come quella dei finanziamenti per il PUA in ospedale e così via. Sì, ma io tante che erano state rappresentate finché c'ero io dalle barriere architettoniche. La plastic freak adesso va tanto di moda. Io tre anni fa avevo fatto la mozione per togliere la plastica, per esempio quando sono le fiere, no? Utilizziamo il compostabile, eccetera, votata anche dalla maggioranza, passata all'unanimità. Non si è fatto nulla, adesso però la ripropongono loro, quindi è una cosa bella da fare, eccetera. Quindi è una presa per i fondelli per chi veramente ci crede a certe battaglie. Però nulla di nuovo, no? Allora, intanto Susanna è qui con noi, come vedete, con lo spirito di sempre. E se volete, anche se non è consigliere comunale, si può ugualmente fare le battaglie politiche. Questo è che bisogna, anzi, molto spesso le fanno più le persone svincolate da un'attività amministrativa che scendono volentieri in piazza, che si organizzano in comitati, che fanno dei banchetti, che propongono, no? Che non coloro che magari sono seduti in consiglio comunale e ozziano. Io aggiungo questo, alcuni ho l'impressione che ozziano. Va bene, dicevo, se volete, Susanna è qui con noi. E se volete, appunto, porle delle domande all'ex consigliera, fatelo pure. Preferisci definirti ex consigliera o ex consigliere? Sei quella di quelli... No, guarda, assolutamente a me questi sillogismi non piacciono nemmeno, perché sembra che siamo una specie in via distinzione, non una specie protetta. consigliere e consigliere va benissimo sia al maschile che al femminile, è a mio parere, però ognuno usa il termine che preferisce. Vediamo un po', pronto? Ci siamo? No, beccaciccivi. Sì, però bisogna che a Susanna gli mettiamo la cuffia. Dimmi tutto, Sergio. No, metti la cuffia intanto. Ecco, ha messo la cuffia. Senti, no. No, non sento. Susanna. Pronto? Sì. Ecco, un po' meglio. Buonasera, Susanna. Oh, buonasera, ciao. Possiamo darci del tuo? Eh beh. Penso di sì ormai, dai, penso di sì, ci conosciamo. Allora, io devo dire che non sono contento che non sei presente in Consiglio Comunale, ecco. Questo lo voglio premettere. Poi, pur non essendo laureato in PD, tu sei specializzato in PD? Per fortuna no. In PDologia, in PDologia. Ho imparato a conoscerlo, ma grazie a Dio tengo le distanze ancora. Ecco, perché qualcuno mi scambia come esperto o laureato in PD, io non lo sono. No, io ho questo. Allora, intanto, cosa brucia a piedi, Susanna? Dimmi. Tu fai parte ancora dei 5 Stelle o no? Sì, sì, abbiamo detto prima. Del movimento come ideologia eccetera, sì, qui a Regganadi ho mandato un po' a quel paese il gruppo, quindi poi decidete voi chi è che ha ragione, però non frequento più il gruppo, diciamo così. Vabbè, complimenti alla chiarezza e al coraggio, non è usuale nella politica. Allora, finito... Ci sono altre... Sottigliezze. Esatto, altre cose più curiali, un po' pretesche, scusi il termine. Susanna, ascolta, i 5 Stelle stanno attraversando un momento non felice, no? È vero, no? Non l'hanno mai attraversato un momento felice, Sergio. Allora, stanno attraversando un momento particolarmente non felice. Sì. La domanda è questa, due anni fa, nel 2018, ci sono state le elezioni, nessuno ha avuto una maggioranza parlamentare e tu hai detto bene, i 5 Stelle avranno detto mai alleati, mai col PD, no? Esatto. E, invece, i 5 Stelle si sono alleati con la Lega. Non pensi, non pensi... Io, una domanda che ho detto, ripeto, è per gli amici che ascoltano, tranquilli, io non sono lavorato in PD, anzi, se qualcuno ha amici stretti nel PD, certe domande su Ceriscioli, l'ordine... Fatele del partito oppure direttamente, no? Gli interessati. Allora, non pensi tu che se insisteva in quella linea, se i 5 Stelle insistevano, nessuna alleanza e quindi nessun governo, né con la Lega né con il PD, magari la botta più grossa la risentiva proprio il PD e scompariva o si riduceva di molto? Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, mi sono spiegato. Allora, no, ascolta, ascolta. Sì, dimmi. Ciao, Sussana, tanti auguri. Grazie, grazie mille. Grazie, auguri. Ciao, grazie, Sergio. Ciao. Allora, prima che rispondi a lui, intanto ripeto, perché questo è un numero che viene utilizzato soltanto in casi sporadici, 071 973 4147. Allora, Susana, prima che rispondi a Sergio, voglio dire, ma il gruppo esiste qui a Regalari? Perché francamente non l'abbiamo più sentito da quando sono finite le elezioni amministrative. Eh, infatti è una domanda che mi pongo anch'io, magari un giorno... C'è un comunicato o qualche cosa? No, dai. Non abbiamo più avvertito nulla? Eh, no, infatti anch'io mi domando la stessa cosa perché effettivamente dalle elezioni ad oggi non è più uscito nessun comunicato da parte del gruppo, non c'è stata alcuna iniziativa, alcun banchetto, eccetera. Quindi anch'io mi faccio la tua stessa domanda, anzi ti dico di più, quando tempo fa ho tirato fuori un post che riguardava dei soldi ulteriori che sono stati dati all'AMAT, non so se è capitato di leggere... Come no, ce l'ho qui, ce l'ho sui tuoi occhi... Esattamente, per correttezza, prima di fare il post io come Susanna Ortolani ho avvisato qualcuno del gruppo dicendo guardate che secondo me questa è una cosa che andrebbe un pochino studiata... Parlatene magari tra di voi, non fate scrivere a me, uscite voi magari con un comunicato perché 5 stelle devono fare 5 stelle, no? E invece la persona che ho interpellato mi ha detto ma no, secondo me è tutto a posto, non c'è niente da dire. Secondo me c'era da dire e quindi sono andata... Però così non si si prepara a un'eventuale prossima eventuale, diciamo dovrebbe essere ogni 5 anni l'elezione ad amministrativa, però non ci si prepara non solo alle amministrative comunali, ma non ci si prepara neppure a fare campagna elettorale per altri appuntamenti, le regionali, i referendum, cioè essere presenti e dire la propria, no? E se fra un mese si vota per il referendum costituzionale sull'abbattimento del numero dei deputati e senatori, 5 stelle potrebbe, visto che è stato un suo cavallo di battaglia, proporsi già con delle uscite, o con delle comunque sortite pubbliche. Va bene, dicevi e vuoi rispondere al PD di Sergio? Allora rispondo semplicemente che la legge elettorale pessima che abbiamo sempre contestato non ci permetteva di poter governare da soli nonostante i numeri che avevamo. E' una legge che appunto avevamo sempre dichiarato da cambiare, perché è veramente un 41% per poter governare ovviamente non l'ha mai raggiunto nessuno, a meno che non ha chissà quali numeri, però quella avevamo e su quella ci siamo dovuti passare. Tant'è che Di Maio all'epoca durante la campagna elettorale disse noi le alleanze non le facciamo, tant'è che ci tengo a precisare che nei territori continuiamo a non fare questi listoni con 5, 6, 7, 8. Quello è il senso che non ci alleiamo con nessuno. Noi andiamo da soli e prendiamo le botte sui denti. Però non facciamo questi gruppi di chiunque, perché poi alla fine è una cozzaia di tutto, ma poi anche a livello qui locale è una cozzaia di chiunque che prima stava qua, poi va là. Non ci piacciono queste cose, l'identità è una cosa a cui teniamo e quindi in quello è il senso del non ci alleiamo. Ovviamente a livello nazionale il discorso è diverso perché, ripeto, la legge che abbiamo da soli non ci permette come numero di governare da soli. Quindi per forza si è dovuto trovare non un alleato, ma qualcuno che fosse stato disposto a portare avanti le nostre battaglie. E in quel caso, per la seconda volta, è stato proprio il PD che ha chiuso la porta in faccia ai 5 Stelle perché si disse se no, noi con i 5 Stelle non vogliamo avere nulla a che fare, la Lega prova a fare un passo in avanti. Quindi questo è il senso che non c'è stata nessuna alleanza nemmeno con la Lega, così come non c'è adesso col PD. Semplicemente il 5 Stelle dice noi abbiamo questi punti programmatici a portare avanti. O salta tutto, che per l'Italia e per gli italiani non c'è proprio da curarselo perché un governo che salta non è cosa buona per nessuno, oppure chi vuole portare avanti con noi le nostre battaglie è il benvenuto. La Lega ha fatto quello che ha fatto, Salvini si è tirato indietro e il secondo è stato il PD. Lì che fai? Fai una crisi di governo? Porti avanti l'ulteriore governo tecnico che ci ha portato dove siamo adesso? In questo modo si riesce a portare avanti... Il PD è un vecchio marpione, eh? Assolutamente sì, tant'è. Si rischia che... Ti metti i bastoni tra le ruote, sì. Ulteriori voti che potevate comunque almeno garantirvi... Sì, 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 ma infatti a me anche non è piaciuta come soluzione perché non mi è piaciuta assolutamente. Però adesso sto vedendo che bozza qua, bozza là, qualcosa si sta comunque portando avanti. Diciamo che il lavoro prosegue e dobbiamo tenerci, no? Quel che passa il convento alla fine poteva andare peggio, dai. Sì, e quindi questa penso che sia la risposta che Sergio... E quindi si dire avanti? E per forza, indietro possiamo andare. Senti, ma questi candidati come li scegliete voi eventualmente per queste elezioni regionali? È vero che tutti ci sono fuori dal gruppo, però intanto... No, no, però seguo. Segui, no? Assolutamente sì. C'è questa famosa piattaforma, c'è ancora, non c'era, questa piattaforma russo che dovrebbe essere le vostre un po' primarie. Sì, sì. Nel senso che chi vota lì indica quello che potrebbe essere il candidato da preferire, da mettere alla guida del vostro gruppo politico e candidarsi quindi alla regione Marche, alla presidenza della regione Marche. Ma è attendibile una votazione tramite la piattaforma russo oppure anche lì ho notato che hai mostrato dei dubbi? Sì, non tanto per la piattaforma... Quanto sui candidati. Sui candidati, esattamente, perché in realtà non è che sulla piattaforma si decidono i nomi. No, la cosa bella è questa, che chi vuole si candida, entra nella piattaforma e dice io mi candido. Successivamente sono tutti gli iscritti che, tra la rosa di chi si è proposto, decide chi votare. Quindi è una cosa democratica, trasparente, eccetera. Se non fosse che quest'anno si è abbandonato il metodo tradizionale, per cui si facevano le cosiddette gradicole, che è un termine bruttissimo, ma che consisteva nel mettere tutti insieme questi candidati a una platea di chiunque volesse intervenire, quindi c'erano 100 persone, e a questi candidati si facevano le domande. Ma chi li sceglieva questi candidati? Si autopresentano sulla piattaforma. Chiunque si può... No, tu hai dato un numero adesso, non so, se è a caso pure vero, 100... No, le persone che andavano a fare le domande, diciamo che chiunque poteva andare a fare le domande a questi soggetti, perché sulla base di cosa scegli, chi voto, chi non voto, perché poi Rousseau ti dice, ok, questi sono i nomi di chi si candida, poi tu li devi votare. Sì. Quindi, cinque anni fa, sulla base di cosa? Si facevano queste riunioni, si mettevano in fila i condannati, e chiunque faceva le domande, per poter valutare chi fosse la persona più idonea. E così è stato, cinque anni fa. Quest'anno, questa sorta di modo per conoscersi, non c'è stato. Semplicemente ci sono stati soltanto sei candidati per provincia, che sono pochissimi, perché se chiunque si può candidare, soltanto due, sei si presentano, e sulla base di nulla noi saremo chiamati poi a scegliere il nostro preferito. E questa cosa a me non è piaciuta, perché manca la trasparenza e la democrazia che c'era all'inizio, e non mi ha convinto molto il fatto che per ogni provincia un solo candidato era veramente conosciuto dai gruppi, perché sono le uniche persone che da anni vanno avanti con il movimento, eccetera, mentre gli altri non erano attivisti, nessuno li aveva mai visti, nessuno li aveva mai sentiti, quindi un pochino la cosa mi ha puzzato, diciamo così. Poi non ti so dire se ci sono state direttive, eccetera, perché questo non lo possiamo sapere. Però anche alle politiche era successo qualcosa di simile, una è la famosa Raghele Silvestri che è passata al gruppo misto, sono dei personaggi che tu ti ritrovi candidati senza che nessuno li ha votati, e poi si rivelano per quello che sono. A dimostrazione del fatto che effettivamente se non c'è dietro un gruppo che li conosce, rischi poi di mettere dentro persone che di 5 stelle non hanno nulla, perché tanto chiunque può andare via e provare la scalata. Anche questo è un rischio che si corre. Per forza, per la democrazia si fa anche questo, ma poi dopo ci sono dei boomerang pazzeschi. In realtà quindi non c'è la cosiddetta gavetta che ti può dare nei confronti di un candidato almeno la possibilità di un curriculum che possa mostrare la sua preparazione, ma anche la sua aderenza puramente priva di ogni utilità orientata soltanto alla candidatura, ma che abbia avuto magari un percorso politico, abbia dimostrato affidabilità da questo punto di vista. Cioè nel senso che una persona dovrebbe per essere votata avere dietro una sua storia, una storia che dice sì, questo effettivamente ha mostrato nel corso degli anni o dei mesi una sua linea politica coerente che è vicina all'idea dei 5 stelle e non è l'ultimo arrivato che corre e si butta e sale sul carro perché magari l'obiettivo suo è quello di essere eletto e di trovarsi un mestiere nuovo. Purtroppo è successo anche questo, abbiamo imbarcato. Perché dobbiamo anche ragionare in questi termini molto terra a terra. Sì, sì, purtroppo non c'è un filtro logico. Viene richiesto appunto, una volta perlomeno, dovevi essere attivista da un tot di tempo, dovevi essere, non dovevi aver partecipato alle elezioni contro il Movimento 5 Stelle, le fedine penali pulite, questo rimane tutto. Non dovevi essere stato già consigliere oppure candidato di altre formazioni politiche. Esattamente, i panetti ci sono, però ci stanno persone che per tutto questo sono in regola però non hanno minimamente l'idea dei 5 stelle ma ci provano perché con noi appunto non è che c'è qualcuno, una segreteria che decide, sceglie, chiunque può fare la parte del leone. E quindi ovviamente metti dentro anche persone che non sono adatte, diciamo così. Quindi ad oggi? Ad oggi ci si presenterà quindi senza fare alleanze eccetera. I nomi sono questi quattro che sono usciti fuori dalla prima votazione su candidatura, anzi su russo. Quindi ci dovrà essere un'altra successiva votazione? Adesso, esatto, saremo chiamati, tutti gli iscritti saranno chiamati a dare la loro preferenza per vedere appunto chi sarà il candidato per governatore eccetera. Secondo te chi è che c'ha più chance? Qui la battaglia è tra Ancona e Macerata perché già Ascoli così hanno detto che non ha possibilità. Sempre per un fatto di conoscenza perché stanno persone che da tanto. Siamo giovanissimi come movimento ma già ci stanno quelli che vecchi che tanto che stanno dentro. e quindi penso che se la vatteranno tra Ancona e Macerata, però ci stanno, ma l'umore ce ne stanno, non lo nascondo perché alla fine non c'è niente a nascondere. Ma Maggi potrebbe essere un candidato? Non si è candidato. Non si è candidato? No, no. Cioè lui ha detto, non è stata scelta neanche la sua proposta di un'alleanza, quindi è inutile che mi candidati a quelli di 5 Stelle. Magari lo troviamo candidato col pittino. Ma non penso, sarebbe una coltellata diciamo. No, non credo, però no, no, non è tra la rosa dei pretenderi. E' vero che ci sono alcuni 5 Stelle che hanno già lasciato il partito, si sono messi nel gruppo misto, no, e che magari in attesa che qualcuno li possa... Li ripeschi. Li possa ripescare. E adesso vedremo. Senti, noi facciamo sempre, andiamo sempre a pescare invece un altro tipo di pesca nel tuo sito Facebook per capire appunto i tuoi argomenti preferiti. o comunque quelli che hai, diciamo così, commentato, dibattuto in quest'ultimo periodo. Ci occupiamo un po' di queste benedette scuole, perché un'altra delle due battaglie, mi ricordo, nel 2016, era quella di sapere se c'era la certificazione, diciamo, della... Antisismica. Antisismica. E quindi della verifica... se c'era stata verificata la sismicità, non so adesso il termine esatto tecnico che si era dato. Comunque, poi abbiamo appreso che ad esempio la scuola qui, bene meno gigli, in Chiosso Sant'Agostino, non c'ha questo certificato. No, non ce l'aveva nessuna scuola. Eh, non ce l'aveva, però ha detto qualcosa, attualmente nessuna ce l'ha. Attualmente forse hanno fatto le verifiche di vulnerabilità. Ecco, vulnerabilità, non mai veniva, vedi questa grava. No, antisismiche, mancuna, e va bene. E non c'era neanche la verifica, appunto, di vulnerabilità che ti dice, no, qual è il rischio che accorre la scuola in caso di... Ce l'aveva forse soltanto... no, ultimamente avevano stanziato comunque i soldi quelli del terremoto, le avevano utilizzate per fare queste verifiche e forse le avevano fatte a San Vito e a Castelnuovo. Castelnuovo, anche da Lorenzo Lotto pure che era... Lorenzo Lotto era stata ristrutturata e quindi loro l'hanno dichiarata antisismica. Mentre per le altre hanno fatto queste verifiche, a Palazzo Venieri pure, mi sembra che le hanno fatte, però i risultati non ce l'hanno mai dati, eh? Cioè le verifiche le hanno fatte, però non mi risulta che hanno mai detto qual è il grado, qual è il livello di specificità, non lo sappiamo. Però qui c'è, su una interrogazione del consigliere Simone Simonacci, c'è una risposta del Comune e dei tecnici del Comune, dicendo che siccome questa scuola comunque sarà utilizzata per qualcos'altro, perché si sta realizzando la nuova scuola, quindi la, diciamo così, non c'è la verifica antisismica, diciamo così. Certificata antisismica, dal 2010. Appunto, che fretta c'è. Siccome, quindi, come se fosse ormai tempo perso, dedicarvi del tempo, intanto questa non sarà più scuola. Ma quando, poi, non si sa, perché mi sembra che la C.I. non è che vada tanto avanti in maniera accelerata. No, penso che troveranno gli stessi problemi che hanno trovato anni fa. Cioè, ogni volta che fanno gli scavi trovano sempre l'acqua, la troveranno sempre, perché tanto c'è via alle fonti, lì un motivo ci sarà, se si chiama così. Quindi continuano a trovare gli stessi problemi che ogni volta che ci hanno messo mano hanno trovato. Poi, non credo che questo servi a velocizzare tanto i lavori. Poi, certo, se la scuola, questa qui, era una sistemazione temporanea, o ci spiegano per loro temporaneo cosa significa, oppure abbiamo un po' di difficoltà a star dietro ai loro termini, ecco. Penso che sia stato risolto poco o niente, anche perché quando io feci il mio primo accesso agli atti, scoprì che in realtà non c'erano neanche i certificati di prevenzione incendio, le scuole non c'erano neanche quelli. Quindi, è proprio alla base che mancano gli studi, eccetera, però se manca la volontà, ovviamente... Hai visto che il Teatro Bersiani hanno dovuto adottare delle prescrizioni alquanto pesanti, perché per ottenere il certificato di antincendio, visto che è una struttura vecchia, non poteva essere... Non c'è neanche legibilità, infatti, il Bersiani. Deve, se si vuole fare una rappresentazione al Teatro Bersiani, ci devono stare, non so, due vici del fuoco. Cioè, anche le compagnie private che volessero prendere in affitto il Teatro Bersiani diventa un costo totalmente elevato che a molti non conviene neanche fare domanda. Questo è un grosso problema, però è anche vero che se la sicurezza le chiedete ai privati, voi del pubblico, enti pubblici, dovete rispettarla. I primi, anche perché lì ci mandano le scuole, no? E soprattutto, le scuole. Per cui a fare le rappresentazioni, a guardare le rappresentazioni, comunque frequentato anche dai bambini, quindi il fatto che non sia dichiarato sicuro... O almeno ci devono stare, anche le mascherine devono avere il loro certificato per poter svolgere quel ruolo, quindi anche loro costano. Eh certo. Vabbè, questo è quello che dobbiamo registrare. Allora Susanna, tu prima avevi fatto l'accenno ai fondi, a Amat e così via, ma che è successo? Perché che cosa hai messo in evidenza? Allora, siccome io non sono più consigliere comunale, però continuo a interessarmi nella vita politica... Vedi, spulci magari gli atti... Ogni d'altro vado sull'albo pretorio, vabbè, vediamo cosa c'è. Le delibere, fai bene. Esattamente, le delibere, le termine che sono quelle un po' più nascoste. Io ci vado per ragioni giornalistiche, tu ci hai per ragioni politiche. Per ragioni di cittadino e so che le date più curiose sono quelle che quando la gente è impegnata in altro, no? Quindi a Ferragosto, a Natale, l'ultimo dell'anno, quando le persone sono un po' distratte, loro tirano fuori le loro migliori perle. E avevo trovato questa determina per cui oltre alle centinaia e migliaia di euro che viene dato all'Amat, c'erano questi 20.000, mi sembra, è passato un po' di tempo, 20.000 così, una tantum, nel senso che secondo loro erano giustificate, però io ho pubblicato anche la determina, in realtà non si capisce per quale motivo gli danno questi ulteriori 20.000. Per cui mi ero domandata appunto la giustificazione, perché c'è a fronte di un progetto futuro, io il 30 dicembre, per un progetto che quindi cade nel 2020, devo assolutamente, con massima urgenza, perché c'era la massima urgenza, dare questi 20.000 euro per un qualcosa di incomprensibile, un progetto che non è neanche ben definito. L'urgenza sinceramente non l'ho compresa, perché se il progetto non è nemmeno chiaro, non l'ha nemmeno iniziato, non sai dove vuoi arrivare, non la capisco questo motivo dell'urgenza, per cui mi ero posta a questo problema. E pochi giorni dopo era uscito un articolo sul resto del Carlino di Civitanova, dove lo stesso si lamentava il fatto che all'AMAT, anche là, fossero stati stanziati tanti soldi e non se ne capivano bene i motivi. E io penso che questo sia un motivo da andare un pochino a ricercare. Ho fatto anche appello ai consiglieri di opposizione. Io purtroppo non ho la possibilità di andare a chiedere documenti, quindi ho sollecitato anche loro a cercare di vederci chiaro. Ora non mi sembra che sia uscito fuori nulla. Anche perché a volte non ci sono delibere specifiche di finanziamento. A volte si trovano dei finanziamenti in delibere che hanno altro oggetto, altro nome, in cui c'è anche magari l'AMAT, per carità, per attività svolte. E quindi metterli insieme un po' tutti questi benedetti finanziamenti, insommarli insieme per vedere poi qual è la cifra reale che viene impegnata. Ma poi in quel caso non corrispondeva neanche il numero della determina con il numero dell'approvazione da parte dell'ufficio competente. C'era una discrepanza o di data o di numeri. Per cui, vabbè, magari può anche succedere questo. Però come ci dè, per vedere... Allora l'AMAT quanto prende? Per fare un esempio l'AMAT. Non è che c'è un'AMAT, no? Come ci dè di andare a cercare qui, poi là, poi sotto, poi qua? Perché non è che c'è un unico documento che c'è scritto, no, bisogna andare a spulciare quelle due o tre ore e ce le berdi. Poi alla fine c'è il totale che svieni perché... Dici, ecco, sti 20.000 gli servivano proprio. Però sì, sicuramente il cittadino... Diciamo che non sono quelli, i 100.000 euro che diceva, si dice in un, o si è detto sempre, nelle varie conferenze stampa. Un attimo che c'è per Luca, che vuole intervire addirittura sul telefonino. Vediamo se è per noi. Pronto? Pronto? Sì. No, quell'altro numero non funziona, non so l'altro. Non è che l'altro numero funziona. Alla faccia. Stasera puoi gottare giudicare. Io comunque per questa questione, quasi un mese fa, ho fatto richiesta di tutti i contributi dati alle associazioni, compresa l'AMAT, nell'anno passato. Quindi attendo risposta scritta con non solo i contributi, ma anche il bilancio, perché quando il Comune dà un contributo e l'Associazione deve giustificare la spesa, quindi attendo la risposta, poi dopo vediamo da farsi. Quindi anche io su queste, c'è ragione Susanna, insomma due o tre ore la sera ogni tanto guardo l'album Pettorio, pure io. E effettivamente la questione dei contributi alle associazioni, e in particolare l'AMAT, perché ricordo che l'AMAT si porta a casa tantissimi soldi, oltre a quanto è stabilito dalla delibera, e quindi io pure devo vederci chiaro su queste cose. Attendo risposta scritta, ma ha detto che adesso rispondono velocemente, ma io ormai questa è un mesetto che l'ho presentata, c'è 60 giorni di tempo, adesso aspettiamo la risposta, con la porti in consiglio orale, però ho bisogno di verificare i numeri e i dati, e più è che anche a me è venuta, ho visto subito questi 20 mila euro dati all'associazione per il progetto, un progetto turistico, una cosa del genere, se non ricordo bene, ma ricordo tutti i soldi che il Comune spende ogni tanto per i progetti turistici, per il piano del traffico, per altre cose che sono soldi buttati, perché dopo alla fine non se ne fa niente, ecco sono soldi proprio buttati, regalati. Beh, vabbè, se vengono finanziati... Beh, io guarda, c'ho qui un scontro, è vero? Il piano sintagma, te lo ricordi, il traffico... E come no? Di costanza, con i soldi, io ce l'ho più una copia di quando ero consigliere, ma a me è lettera morta, c'è stato anche un progetto dell'Università di Urbino sul turismo, lettera morta, cioè soldi dati così, no? Con tanto di presentazione, all'aulamagna, c'è un film che dice chiacchiere distintivo, ecco, tutte cose così, tutte cose buttate, intanto l'amministrazione spende. Comunque anch'io ho chiesto proprio tutto l'elenco, perché non riguarda solo l'AMAT, perché parecchie associazioni e comitati di quartiere hanno preso fior di contributi, eh? Certo, sì, sì. E quindi bisogna vedere se hanno portati il resoconto, perché dai contributi, darli a un mese prima delle elezioni, esso buoni tutti. Io di fatto ho chiesto tutto l'elenco del 2019. Benissimo, Trucchia. Buon proseguimento. Ti ringrazio. Ciao. Beh, no, lo ringraziamo di questo suo, diciamo, interesse che ci ha comunicato, grazie del fatto che tu hai inviato questa interrogazione, intanto prima o poi arriverà questa risposta. Allora, quindi, tramite trucchi abbiamo appreso che neanche il 973 4147 funziona, in entrata, allora utilizzate il cellulare che è il 366 4147 186. Ripeto, 366 4147 186. Anche perché, dicevo, nelle conferenze stampa si diceva e si andava fieri del fatto che noi non spendiamo come spendeva Corbatta, che per il piccolo di Milano aveva garantito in bilancio 500 mila euro. Noi abbiamo ridotto le spese sino a 100 mila euro. Ma la convenzione dice una cosa. Se andiamo a sommare tutto quello che si prendono, mi sembra che... Stiamo lì, stiamo lì. Vediamo se è per noi. Pronto? Pronto? Niente, è questa... È questa il boda, Fon. No, adesso proprio non ci siamo. Allora, lo so che forse si volete comunicare che i telefoni non funzionano, però... Allora, dicevo, cara Susanna, che su questo appunto faremo luce. Grazie anche al tuo sollecito. Allora, adesso va te ne faccio anche un altro. Dai, dai, dai. No, io capirai. Mi inviti a nozze. Io quando vedo qualcosa di strano, no? Cerco sempre di capire dov'è il problema. La storia, per esempio, è il palazzetto, no? È lo sport. Sì. Penso che tutti ci siamo fatti una domanda, come è possibile che viene fatta una gara, vince una ditta, inizia i lavori, poi la ditta rinuncia, passa alla seconda, la seconda rinuncia, passa alla terza, la terza rinuncia. Mi sembra una cosa abbastanza curiosa, quindi ti chiedevo se per caso avete avuto modo... Ci sarebbe da approfondire, andare a vedere, ma chi ti dà delle risposte? Le risposte ufficiali sono quelle che, non lo so, nel frattempo, virtualmente, la ditta, che poi dicono, la prima ditta, sia nel frattempo, dopo 15 giorni, che era fallita. È vero? Non lo so. E comunque hanno detto così. E poi, che forse i lavori si sono accorti che era un impegno maggiore della somma che era stata messa a disposizione per realizzarli. Ma ti accorgi prima? Sì, infatti. Io voci, ovviamente, Vox Populi, Vox Populi, Vox Dei, sembra che la ditta che ha iniziato il lavoro, l'ha iniziato, poi però si è accorta che il progetto era sballato e quindi per quello non bastavano i soldi, perché se tu fai un progetto e poi il lavoro da fare è tutt'altro, è ovvio che gli evitano i costi, eccetera, eccetera. E la ditta, questo è accontestato all'amministrazione. Però a quel progetto c'è qualcuno che l'ha firmato. La responsabilità in questi casi non ce l'ha nessuno. Quando uno partecipa a una gara da patto non deve avere un capitolato ben preciso dal progetto e tutto quello che si chiede il testo. Ma il progetto può essere corretto, esattamente, quindi la ditta ha detto sulla base di questo progetto io ti faccio questa offerta e è andata avanti. Poi quando ha iniziato il lavoro si è accorto che al progetto mancavano, in quel caso c'era da allargare il palazzetto. Ah, c'erano quindi cose in più da fare che non avevano messi in preventivo. Esattamente, che non erano messi in preventivo. E però c'era un progetto appunto firmato, approvato dall'ufficio tecnico, eccetera. Ce lo spiegherà. Dai, adesso non possiamo tirare... Se ti capita a fare così, esatto. No, no, ma quello del palazzetto pure è una cosa che... Sì, perché è una cosa curiosa, eh? Ci preme a approfondire, sicuramente. E va bene, quindi abbiamo... Siamo passati dal... Variamo. Eh? Spaziamo proprio. Sì, dal lama al palazzetto. È sempre questione di soldi, diciamo così, e che abbiamo visto che a volte mancano. mancano o comunque non sono sufficienti per completare gli appalti. Allora, un'altra questione, invece, che vorrei affrontare con te è quella della sanità. Perché in un tuo posto ti sei un po' arrabbiata perché dici che a Reganati mancano molti servizi ma quando ci si rega in Reganati per chiedere una visita ginecologica ti dicono che non è possibile perché non le fanno più se non le donne incinte però le puoi avere il giorno dopo se paghi 90 euro. Ma sempre a Reganati? In libera professione? Sì, sì, sì. Siamo sempre alle solide. Dopo dici la sanità privata ma questo è il sistema della sanità privata. Però dentro le mura e con le attrezzature... Perché 90 euro lo puoi trovare dovunque. È certo. In qualsiasi... Anche a meno. Anche a meno. Anche a meno. Effettivamente anche a meno. Ci sono ormai tante... Intanto infatti è fiorita a Reganati una serie di centri ambulatoriali che ti dicono che ti fanno l'ecodoppler e ti fanno l'ecografia addominale completa ti fanno qui, ti fanno là a un prezzo che se non è di meno comunque si avvicina molto a quello che tu pagheresti in libera professione in una struttura pubblica. le cose non funzionano così però. Per niente. No, per niente. A parte che spesso capita pure che chiami poi il cup quello lì telefonico, no? Aspetti quelle sei, la tua chiamata è la centoventitresima. Metti lì, aspetti eh. Questo mi è successo la prima volta sempre per prenotare questa visita poi mi risponde l'operatore ma guarda che la lista è bloccata, la lista è attesa. Scusa, che significa? Che non posso più prendere prenotazioni. Ma perché? E mi dispiace è bloccata, finita lì. Interrotta la... Cosa significa? Perché bloccano le liste? Allora ho domandato ma perché bloccano le liste? E uno mi ha risposto perché? Perché vogliono che fai dal privato. Capito? Sì, è ovvio che perché... Di solito le bloccano a fine anno perché non c'è più il budget a disposizione, non so. No, no, lì non era tenuto probabilmente a rispondermi e non mi ha detto il perché. Però poi mi hanno detto guardi, ogni tanto capita quando sono tante richieste cioè anziché aumentare tu blocchi, capito? C'è tante richieste anziché mettere a disposizione... Sono pieni gli appuntamenti e tenderebbe troppo in là e noi le blocchiamo. Tante la prendo per niente anziché aumentare l'offerta... Ma come non aveva Ceriscioli abbattuto le liste d'attesa? Abbattuto le liste d'attesa! perché immancabilmente pensano ai fatti loro però sta tirando fuori sì, delle perle fantastiche però certo alla fine ricadi sempre sulla sanità quando ci stanno poi le emergenze vedi si chiama la sanità pubblica e ancora funziona? Perché nonostante tutto ancora funziona e c'è da chiedersi anche come fanno perché è veramente vergognoso quello che succede però ecco quando tu vai in un ospedale pubblico a chiedere una visita e ti dicono no vai privato 90 non va bene non è così che devi funzionare tu devi darmi la possibilità di fare le visite poi dopo funziona ancora l'emergenza se è l'urgenza cioè scusami se il medico effettivamente ti mette l'urgenza effettivamente loro entro 24 ore però magari ti espriscono agli esi Ma però i medici non sono tanto propensi a mettere l'urgenza così perché sanno benissimo che ecco sanno benissimo che è un'urgenza è un tasto delicato quello perché se poi non è vero no no certo però se uno ha veramente l'urgenza però se c'è bisogno di l'urgenza deve la struttura pubblica eseguire un intervento entro due o tre giorni vi sembra possibilmente senza far arrivare però perché ti ripeto se una persona che non ha la macchina che anziate non è che tu puoi fare un'ora e mezzo se no ti ricoveri perché questo è l'unico elemento per farti fare tutti gli esami andare al punto soccorso e farti ricoverare però è sempre una cosa antipatica è una scamotage non è giusto qualcuno utilizza eh lo so qualche persona che sa fare la furba non è correttissimo esatto non è molto corretto sicuramente è un tasto dolente questo che io non so se si riuscirà a venirne a capo perché adesso mi sembra di aver capito che i fondi sono un pochino aumentati rispetto al passato per la sanità dicono che ci sono 13 immediati ma mi pare tanto tanto una cifra ma poi bisogna vedere infatti come poi vengono distribuiti perché se tanto continuiamo a darli privati pure e la sanità pubblica è sempre in sofferenza e poi ci siamo sempre questi ospedali chiusi cioè chi ce li riapre dicono che fanno gli ospedali nuovi i provinciali e va bene a proposito visto che siamo in tema sanità con questo chiudiamo a meno che non c'hai qualche altro tuo recente commento su facebook che possiamo tirare fuori magari e dibattere e no come lo vivi questo momento del coronavirus perché a proposito di urgenze oggi seguivo in televisione che ci sono dei casi mi sembra a Casal Pusterlengo oppure a Lodi comunque dei casi di infetti anche gravi di cui si necessitava il ricovero il ricovero un ricovero che però non era possibile negli ospedali di quei paesi perché i posti letto della terapia intensiva si erano esauriti e allora dovevano essere questi soggetti portati in ambulanza negli ospedali più vicini attrezzati e che in cui i posti letto erano ancora liberi ora a questo punto però mi sembra che i cinesi abbiano costruito un ospedale in 15 giorni per poter mettere lì tutti i malati infetti gravi o meno gravi e comunque lì curarli non li fa girare da un ospedale a un altro perché allora finiamo per finiamo per rendere la noi vada vada ogni forma di isolamento non c'è senso comunque questa è la mia considerazione che ti viene spontanea a Venezia è caduto il tendone che avevano allestito non avevano allestito una sorta di tendone con i militari gli è cascato in giù cioè siamo proprio fantozzi assurdo le comiche finale ma vada è tragico avere un emergente in Italia no no è vero diventa c'è sempre da curarsi che non ci sia bisogno perché purtroppo ecco le strutture non è che non funzionino ma che sono talmente ridotte all'osso che si chiedono turni sfiancanti alle persone che operano negli ospedali che possono anche essere stanche eccetera fanno turni massacranti è logico che poi qualcosa può non andare benissimo però mi sembra che sia stato fatto in tutta Italia anche in Lombardia che comunque si vantano tanto della loro sanità e soprattutto una sanità privata e al momento in cui c'è da curare un malato che rischia la vita loro lo speriscono negli ospedali pubblici perché funziona così anche da noi purtroppo penso che è capitato a tanti ricanadesi di vedere questa situazione che subisce un intervento chirurgico quindi la riabilitazione la fai in una clinica privata se qualcosa va storto che c'ha impeggioramento la clinica ti rispedisce al pubblico perché loro non ti curano questo purtroppo succede quindi le cliniche stanno lì per fare servizio non fanno pronto soccorso stanno lì nei casi più gravi ti rispedisce al pubblico se tu senti tanti ricanadesi hanno una storia a raccontare di questo genere puoi farci un filo diretto quando vuoi se c'è qualcuno che peggiora che sta male loro lo spediscono oppure siccome hanno da liberare dei posti letto e non lo possono tenere lì in lungo decenza come avviene magari a Civitanova lo mandano a Villabini esattamente dove Villabini intanto sta lì ma devi stare bene no devi stare bene perché se certo Villabini non è talmente attrezzata però alcune esame alcune decenze riescono a garantirle per carità come stai vivendo questo periodo del coronavirus se vorrei sapere da te e non nella prospettiva di dover difendere più o meno quello che ha fatto il governo no no ma in termini sanitari e in termini personali come lo sta vivendo perché le reazioni individuali di ogni italiano diversificano l'una dalle altre sì sì ma poi siamo agli opposti no c'è quello terrorizzato è quello che è eccessivamente tranquillizzante io faccio parte degli eccessivamente tranquillizzanti e tranquilli assolutamente sì anche perché seminare il panico anche in famiglia cioè anche con i miei figli penso che sia controproducente e cosa hai detto che non vanno a scuola perché no vabbè purtroppo le notizie le sentono anche che poi altra tutto Ceriscioli gli va male che non votano questi ragazzini giovani perché è diventato l'idolo di tutti perché gli ha chiuso le scuole esattamente lo conoscono adesso e lo idolatrano pure no gli ho detto che c'è stata questa emergenza per questa influenza e per cui qualcuno ha ritenuto necessario dover chiudere le scuole però non c'è da preoccuparsi perché effettivamente apri la porta di casa se ti accorgi che il mondo sta andando avanti come andava avanti prima è vero pure che si apri la porta di casa e vedi strade e piazze deserte però i giovani un po' meno il fatto che non vanno a scuola la sera si riuniscono escono vanno per cui per loro è cambiato poco nulla quindi andare pure poi hanno saputo che il coronavirus non attaccano a loro se li attacca si guariscono senza rendersi conto esatto i bambini guariscono quindi loro proprio vanno tranquillissimi solo che poi torna a casa c'è il vecchietto il nonno di casa però il problema è proprio quello che chiudendo le scuole tutti questi bambini stanno dai nonni perché i genitori lavorano quindi proprio i nonni che dovrebbero essere quelli un pochino più tutelati se ritrovano i bambini dentro casa vanno con i bambini a fare la spesa i bambini non escono per non prendere il contagio i nipoti escono e torno alla sera quindi è stato lì è un casino è difficile perché come fai fai male questo è poco ma è sicuro però io ho visto che alla fine l'incidenza è quella delle influenze è vero che è particolarmente aggressiva però rimane il fattore che è comune a tutte le influenze ossia appunto le categorie più deboli sono quelle a rischio e quindi bisogna usare precauzioni per questi soggetti che possono avere le complicazioni fare uno stato d'allarme creare questo panico non mi sembrava il caso io perlomeno con la mia famiglia ripeto ho evitato di fare ciò perché veramente se no spaventi le persone e non risolvi nulla quindi la sto vivendo tranquillamente sono convinta che molte persone l'hanno avuto sono guarite e non lo sanno perché non hanno fatto il tampone poi lo dico che se uno ha una situazione preoccupante seria che ha difficoltà respiratorie è giusto che si preoccupi e vada curato per quello che è il virus che l'ha infettato però ecco non è che tutti esco di casa e me lo prendo mentre invece sembra proprio hanno creato questo allarmismo per cui devi stare attenti ai guanti le mascherine non è che tutti siamo perché è un nemico invisibile tutti i virus sono invisibili però questo in modo particolare perché sai che non ci sono sistemi per combatterlo per ora però visto che il cepp italiano è diverso da quello cinese ma pare e non ci sono casi di ceppi cinesi in Italia che addirittura ne hanno isolati 4-5 un pochettino diversi e che sono meno di diverse zone d'Italia e quindi sapere il perché come si modifica sono ottoni e non lo so perché se si modifica così repentinamente è inutile correre dietro no che poi si sono esatto modificati sono italianissimi però sono meno quindi hanno la bandiera tricolore meno pericolosi però nel senso che stanno perdendo di potenza esatto quindi nel giro di pochi giorni io mi auguro però certo siamo abbastanza allo sbando questo bisogna dire questo senz'altro per cui ci sono i soggetti più apprensivi che francamente non li biassimo per nulla perché ognuno reagisce di fronte all'ignodo in maniera diversa c'è il cosciente c'è l'incosciente anche e c'è anche chi magari invece è particolarmente preoccupato e infonde anche magari al vicino questa preoccupazione e quindi questa allerta che potrebbe essere esagerata ma io invece la differenza a due sono di quelli che si preoccupano si preoccupa perché perché è meglio sempre preoccuparsi è un'arma di difesa è un'arma di difesa certo certo finché come si dice finché non tocca a noi però ecco ripeto io da notizie che girano comunque anche tranquillizza anche perché anche i giornalisti adesso hanno fatto il dietrofront hanno detto vabbè forse abbiamo esagerato abbiamo creato un po' di allarmi quindi ma l'abbiamo creato noi l'allarme o l'abbiamo o quello che le immagini che ci giungevano dalla Cina che noi non avevamo osato a commentare per dire ma guarda questi pellegrini che ci devono infondere una paura esagerata in realtà loro hanno costruito un ospedale per isolare la maniera dei lazzaretti tutti gli infetti in 15 giorni hanno diffuso immagini come stanno diffondendo di gente che va in giro per strada con gli spruzzatori per poter disinfettare anche i motorini parcheggiati per dire o quelli che ricevevano i viveri tramite la cordicina la fune e il cesto che veniva sollevato fino al quinto piano cioè siamo preoccupati noi se questo succedeva in Cina adesso che ce l'abbiamo in casa ci ce l'abbiamo in casa perché non facciamo come fanno loro sono più stupidi di noi eh no ma infatti ci stanno da chiarire ci stanno da chiarire ci stanno da chiarire è una potenza anche sanitaria a punto di vista mondiale però se non sbaglio anche in Cina in effetti l'allarme è rientrato? si stanno piano o non ce la dicono tutta eh infatti come a sapere si capisce noi siamo sempre gli ultimi come nelle delibere siamo sempre gli ultimi a sapere quello che fanno ma a meno che non le vai a scartabellare ma non è sufficiente neanche quello no purtroppo no davvero va bene è stata una chiacchierata piacevolissima con Susanna Ortolani la terminiamo qui grazie per averci seguito la tua andrà in replica domani all'ora di pranzo cara Susanna dillo la tua madre se vuoi sentirela grazie glielo dirò e a tutti veramente una cordiale buona serata buona serata grazie